Si hanno annunciato, si stanno smontando le pedane, Piazza Cota e ci si sta organizzando per poi gli spettacoli che si dovranno fare. Stanotte hanno montato i da Zebo per le varie bancarelle del mercatino. Eccolo qua, e sono pronti. E quindi anche se con qualche amarezza parte degli operatori di Piazza Cota comunque si sta organizzando, già da stasera saranno mercatini, le giostre già ci stanno e si comincia con gli eventi domani, ricordiamo le messe, Positano News sta seguendo per voi questa festa a cui ci teniamo in modo particolare, ma non solo, anche la Piazza Sorrentina e la Costiera Amalfitana. Da Positano News per il momento è tutto, li aggiorneremo. Ricordiamo che stasera ci sta il Vescovo Aiello e domani sta il Vescovo Michele Fusco, originario anche di Positano, e Carottese. E poi per la marcia per Etan, la ciaccolata con una marcia per Etan.